Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi questa è una piccola premessa prima di partire con il video Perché siccome non ho tempo e come sapete se avete letto sul mio post che ho fatto su Telegram Come nella bagheca del canale Praticamente ragazzi insomma sapete che non ho molto la testa diciamo a posto Ho spaccato il pad della mia PS4 Non ho altri pad dove insomma posso utilizzare per registrare Quindi ho deciso di prendere diciamo un glitch che ancora oggi funziona E insomma ragazzi il glitch è questo qui che andrete a visionare oggi Mi raccomando ragazzi like da subito perché gli esami si stanno avvicinando Sempre se avete letto appunto il post che ho fatto sulla bagheca del canale Quindi mi devo mettere sotto insomma il più velocemente possibile Per appunto poter postare quanti più contenuti possibili Così da tenermi appunto libero per studiare Ragazzi non voglio rubarvi altro tempo mi raccomando il like da subito Account moddati, account glitchati qua sotto nel canale Telegram Facebook, Instagram e Twitter anche questi ragazzi nella descrizione Lasciate un mi piace di supporto Io non vi rubo altro tempo vi lascio al video Buona missione! Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Krixx, oggi ragazzi sono qui tornato finalmente signori miei su GTA 5 online E sono qui oggi finalmente ritornato per mostrarvi e presentarvi un nuovo money glitch Ebbene ragazzi finalmente sì, rieccomi tornato a portarvi video e glitch dei soldi Glitch che vi andrò a far vedere oggi è nient'altro che un after patch del glitch della duplicazione alla base operativa Per chi non sapesse di cosa sto parlando raga è praticamente quel glitch che vi permette allo stesso tempo anche di mettere le BMX nella vostra base operativa Quindi è quel glitch che vi ho postato all'incirca una settimana fa che al momento adesso è patchato ovviamente Questa qui è una nuova versione after patch e vi avevo detto anche in quel video che sarebbero arrivati un paio di video a riguardo Perché in quel video, che adesso appunto il glitch è patchato ripeto Avevo detto, come anche ho fatto vedere, che io invece che duplicare utilizzavo una BMX E allo stesso tempo utilizzando questo glitch per mettere la BMX come anche veicoli speciali E allo stesso tempo utilizzare questo glitch come glitch per i soldi infiniti Insomma, per fare appunto il glitch con la BMX abbiamo bisogno anche di un altro glitch Quindi con questo glitch, appunto, duplicazione after patch Possiamo appunto ragazzi mettere elicotteri, aerei, veicoli speciali come Rocket Voltic, Ruiner 2000 eccetera All'interno della nostra base operativa come anche appunto le BMX Quindi se stiamo utilizzando questo glitch per le BMX e vogliamo appunto duplicare le BMX per fare soldi Ci servirà ragazzi anche un altro glitch che riguarda la duplicazione della BMX che arriverà molto presto sul canale La versione che vi andrò a, insomma, far vedere oggi è nient'altro ragazzi che il glitch della duplicazione Quindi vi farò vedere questo metodo after patch però ovviamente duplicando un veicolo Quindi per fare soldi infiniti Ho registrato anche un altro metodo sempre allo stesso modo Però ragazzi vi farò vedere appunto come poter mettere sia BMX come anche veicoli speciali Nella vostra base operativa, sempre appunto utilizzando questo glitch Raga, il glitch è veramente molto semplice, vi servirà un amico per eseguirlo E insomma non ho altro da dire in quanto si tratta di un glitch abbastanza facile E già visto e rivisto tante altre volte Comunque nel canale non c'è solo quel video da circa 31 minuti a riguardo di questo glitch Ma raga, questo glitch ormai lo conosceranno praticamente tutti quanti Quindi è inutile che io stia qui a spiegarvi insomma come funziona Prima di iniziare ragazzi sapete già cosa fare Mi raccomando lasciate il vostro mitico pollicione in subbomba Che a me aiuta veramente tantissimo Mi raccomando ragazzi cerchiamo di arrivare a 300 likes anche per questo nuovo e fantastico video glitch Perché ragazzi se questo video raggiungerà un buon numero di likes Io insomma vi posterò altri money glitch che ho già registrato Come anche ragazzi vi mostrerò anche dei glitch per duplicare la BMX E allo stesso tempo vi farò vedere anche un altro video sempre su questo glitch uguale Però appunto come già detto invece che duplicare andremo a utilizzare la BMX Quindi ragazzi un buon numero di like per un prossimo money glitch Vi invito a seguirmi su Instagram Il mio ID sarà nella descrizione Ed entrate nel mio canale e gruppo Telegram ragazzi il link sarà nella descrizione Vi ricordo che per account moddati potete sempre contrattarmi Insomma in privato al link che vi lascerò nella descrizione E detto questo ragazzi insomma possiamo subito partire dai requisiti per fare questo glitch Allora semplicemente per fare questo glitch inizialmente ci servirà una sessione privata Quindi appunto una sessione solo ad invito Ci servirà ragazzi un amico, una base operativa che dovrà essere piena Possibilmente all'interno della base operativa dovremo avere anche la Wenger E un veicolo che vogliamo duplicare Quindi in questo caso io andrò a utilizzare una LG Retro Custom Dovremmo avere un centro operativo mobile con allo slot 3 il deposito veicolo personale E ovviamente ragazzi la possibilità di essere online su PSN Quindi diciamo che questo glitch ragazzi funziona soltanto per la PS4 Sul forum da dove ho preso questo glitch non c'era scritto niente riguardo dell'Xbox One Quindi questo glitch ragazzi appunto funziona solo su PS4 E poi vi andrò a dire perché Diciamo che per fare questo glitch dovrete fare degli step che su Xbox One non potrete eseguire Come anche su PC Quindi è molto importante E infine ci servirà semplicemente ragazzi insomma Un veicolo o comunque sia un garage Dove vogliamo ovviamente mettere le duplicazioni E all'interno di questo garage ragazzi delle LG RH8 Che ci serviranno appunto poi per la duplicazione Questi ragazzi sono i requisiti Ve li ripeto per chi non li avesse capiti Una Wenger Una base operativa piena All'interno della base operativa Una LG Retro Custom con targa personalizzata Più modificata l'auto e meglio è Un garage o appartamento dove poter mettere le duplicazioni All'interno di questo garage dovrà esserci Una o più LG RH8 Un amico e il centro operativo mobile con Al slot numero 3 Il deposito veicolo personale Questi ragazzi sono i requisiti In caso ne avrò saltato qualcuno Insomma ve lo scriverò qua giù nei commenti Come anche insomma qui nel video Niente Direi che possiamo subito partire ragazzi Dalla spiegazione per questo glitch La prima cosa da fare è andare in GTA Online Come già detto in una sessione solo ad inviti Una volta fatto questo ragazzi Insomma per iniziare Dovremo semplicemente invitare il nostro amico Come ho già detto è una versione after patch Quindi cambierà soltanto la prima parte Per fare questo glitch La seconda parte ragazzi sarà identica E uguale alle altre versioni Della duplicazione nella base operativa Che vi ho postato nel canale Quindi quello che cambierà con questo after patch Sarà appunto soltanto la prima parte Anche questo glitch ragazzi si divide in due parti Come per il glitch in solo Dovremo quindi eseguire la prima parte Soltanto una volta In modo da appunto poterci andare a buggare Mentre la seconda parte ragazzi ci servirà Per la duplicazione Quindi appunto dovremo eseguire la seconda parte Soltanto per duplicare Mi scuso inoltre già da questo momento Se il video uscirà abbastanza lungo Ma ragazzi vi invito a seguirlo Tutto quanto con attenzione Perché il glitch è veramente molto semplice E anche se il video risulterà lungo Fidatevi che ci metterete veramente pochissimo tempo A fare questo glitch Quindi è molto importante Vi faccio vedere data e ora Ovviamente di quando ho registrato questo video Come vedete ragazzi 3.05 Sono passati circa due giorni Da quando ho registrato questa clip Ma comunque ragazzi il glitch è ancora funzionante Per iniziare quindi come già detto Andate in GTA Online In una sessione solo ad invito Aprite il menu interazione ragazzi E dovrete invitare il vostro amico Quindi appunto aprite il menu interazione Insomma tenendo premuto il tasto centrale del pad Quindi nel caso della PS4 il touchpad E dovremo appunto ragazzi invitare il nostro amico Ci tengo inoltre a salutare Alessandro Che mi ha aiutato a registrare questo glitch Insomma ragazzi mi ha chiesto di salutarlo Anche perché per fare questo glitch Ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo Anche se dalla clip non sembra Quindi mi ha chiesto di salutarlo Un saluto ad Alessandro Che appunto è il ragazzo Che mi andrà ad aiutare in questo video A questo punto quindi come già detto Invitate il vostro amico E aspettate che il vostro amico Entri all'interno della vostra base operativa E il vostro amico Come ripeto questo glitch funziona soltanto su PS4 Dovrà essere online nel PSN Quindi create un party Voi e il vostro amico E entrambi ragazzi dovrete essere online Quindi sia voi che il vostro amico Appunto dovrete stare online Quando il vostro amico sarà entrato Con voi nella base operativa Voi dovrete salire all'interno della Wenger Dovrete salire con anche il vostro amico Fin qui ragazzi tutto molto semplice Step numero 1 Invitare l'amico alla base operativa Step numero 2 Entrare all'interno del Wenger Quando sia noi che il nostro amico Saremo entrati all'interno della Wenger Il nostro amico a questo punto Andrà a premere il tasto PS Come vedete nella schermata Della visuale dell'amico Che vi ho messo qui in alto a destra Dovrà quindi andare nelle attività recenti E dovrà semplicemente ragazzi Andare a trovare un'attività recente Con la quarta opzione Avvia GTA Online Quindi semplicemente il nostro amico Sale con noi nella Wenger E dovrà appunto ragazzi Andare a cercare un'attività recente Con la quarta opzione Avvia GTA Online Quando il nostro amico avrà trovato l'opzione Avvia GTA Online Dovrà schiacciare una volta il tasto X Su Avvia GTA Online E a questo punto Il gioco insomma gli chiederà Se vorrà uscire dalla sessione Quando il nostro amico si troverà su questa schermata nera A questo punto ragazzi potremo proseguire Quindi quando il nostro amico ci avrà comunicato Che si troverà all'interno di questa schermata Noi premiamo la freccia destra E il gioco ci farà entrare nell'officina Della nostra base operativa Fin qui ragazzi Tutto molto semplice Quando saremo all'interno della nostra Officina Della base operativa Schiacciamo semplicemente una volta il tasto cerchio Per tornare indietro E ci si aprirà il menu di uscita Quando saremo ragazzi sul menu di uscita Semplicemente andiamo a posizionarci su Esci dalla base operativa E ora come per gli altri glitch Ragazzi dovremo iniziare il bug Ovviamente questo trattandosi di un after patch Il metodo sarà diverso Insomma per andarci a buggare Rispetto alle altre versioni Quindi semplicemente ci andiamo a posizionare Su esci dalla base operativa A questo punto ragazzi ci servirà Anche per noi un'attività recente Con la quarta opzione Avvia GTA Online E dovremo avere ragazzi Questa attività sul doppio tasto PS In modo che andando a premere il doppio tasto PS Appunto avrete l'attività già pronta Ed è quello che vi servirà Quindi il vostro amico Stando nella schermata nera Aspetta nella schermata nera Voi quindi andate nell'officina Dalla base operativa Andate su esci Esci dalla base operativa Come vedete Quando sarete su questa schermata Andate quindi a prepararvi Con il doppio tasto PS L'attività Avvia GTA Online E quando quindi avrete l'attività pronta Semplicemente ragazzi Ritornate nel gioco Ed eseguite questo step Molto velocemente Schiacciate X Doppio tasto PS X E aspettate nella schermata nera Quindi X su esci dalla base operativa Doppio tasto PS X su avvia GTA Online E aspettate in questa schermata nera Come avete visto dal video A questo punto ragazzi Quando saremo su questa schermata nera Il nostro amico annulla la schermata E si troverà in una schermata Con un caricamento nero infinito Mi sembra O comunque si troverà buggato Con la visuale frizzata Quando quindi il vostro amico Vi avrà comunicato Che avrà annullato la schermata nera E avrà la visuale frizzata A questo punto ragazzi Noi stando da questa schermata nera Come vedete insomma dal video Potremo proseguire A questo punto quindi Quando il nostro amico Ci avrà comunicato Che è tutto a posto Che quindi potremo proseguire Con il glitch Noi semplicemente Andiamo a premere il tasto del PS E a questo punto ragazzi Andiamo a cercare un'attività O meglio Un'applicazione Che ci permetta di sospendere L'applicazione di GTA V Io in questo caso ragazzi Andrò a utilizzare Spotify Voi potete comunque si A utilizzare Insomma Un'attività come Netflix YouTube eccetera eccetera Andate quindi ad aprire L'applicazione per sospendere GTA E quando andate ad aprire L'applicazione appunto La Playstation vi chiederà Se volete sospendere L'applicazione di GTA V Come vedete da questa schermata Semplicemente Andate a confermare Questa schermata Quindi schiacciando su sì E a questo punto ragazzi Aspettate la sospensione Dell'applicazione appunto Qui come vedete Stava aggiornando Spotify Vabbè In ogni caso ragazzi Quando avrete sospeso L'applicazione Vi basterà semplicemente Ritornare su GTA Quindi dopo aver sospeso L'applicazione Voi ritornate su GTA A questo punto Quando sarete ritornati Su GTA Ci sarà una schermata nera In cui vi dirà Che la connessione È andata persa Semplicemente ragazzi Confermate questa schermata E ora il gioco Ci troverà Una nuova sessione Il nostro amico In questo caso Resta ancora Buggato Come vedete Dalla schermata E semplicemente Quando noi saremo Rientrati nella sessione Il nostro amico Ragazzi dovrà Invitarci Se ovviamente Abbiamo una sessione Privata Ci facciamo invitare Dal party Tramite l'opzione Giochiamo insieme Altrimenti ragazzi Andiamo a partecipare Alla sua sessione Tramite il party Se avete fatto Una sessione Ad amici Io nel mio caso Ragazzi Andrò ad unirmi Perché la sessione Dove stavo registrando Questo video Era ad amici Quindi vado sul party E insomma Joino dal mio amico Quindi Alessandro Che mi sta appunto Aiutando Quando saremo ritornati Nella sessione Con il nostro amico Il nostro amico Ragazzi Sarà buggato Il che significa Che appunto Questo glitch Sta funzionando Quindi a questo punto Come vedete Il nostro amico Ritornando appunto Alla base operativa Resta ancora All'interno della vanger Quindi vuol dire Che questo glitch Appunto sta funzionando E che quindi Il nostro amico Non è stato buttato Fuori dalla base operativa A questo punto Semplicemente ragazzi Aprite il menu di pausa Andate su online Attività Avvia attività Creati da rockstar Missioni E andate ragazzi Ad avviare la missione Un lavoro da titano A questo punto ragazzi Avremo quasi finito Insomma la prima parte Del glitch Ci basterà soltanto duplicare Fra pochissimo Vi andrò a dire come A questo punto quindi Come già detto Andate nell'attività E il vostro amico ragazzi Va a partecipare Alla vostra sessione Quindi tramite il party Dovrà schiacciare Sul vostro profilo E dovrà schiacciare Su partecipa alla sessione Quando il vostro amico Avrà schiacciato Su partecipa alla sessione Dovrà aspettare La schermata di caricamento In cui gli chiederà Se vorrà cambiare sessione Quindi come vedete Dalla schermata dell'amico Quando il vostro amico Va a partecipare E avrà la schermata nera In cui gli chiederà Se appunto Vorrà unirsi A una differente sessione Di GTA online Noi semplicemente ragazzi Usciamo dall'attività Quindi quando appunto Il nostro amico Avrà la schermata nera Di attenzione Noi usciamo dall'attività A questo punto Comunichiamo al nostro amico Che saremo ritornati Nella nostra base operativa Il nostro amico Conferma Insomma I vari messaggi di errore Che gli si apriranno Confermando con il tasto X E a questo punto ragazzi Dopo tutti i messaggi di errore Ritornerà Nella nostra base operativa A questo punto ragazzi Sarà buggato E ora quindi Potremo proseguire Con la seconda parte Del glitch Quindi tutto quello Che avete visto finora Ragazzi Fa parte della prima parte Del glitch Che è veramente molto semplice Ora invece Inizia la seconda parte Che ci servirà Soltanto per duplicare Per quindi duplicare È veramente molto semplice Si tratta insomma Nient'altro che Il metodo già visto Quindi voi Vi recate al veicolo Che volete duplicare Io in questo caso Andrò a utilizzare Una LG Retro Custom Quando avremo trovato Il veicolo Che vorremmo utilizzare Noi dovremo salire All'interno del veicolo Come guidatore E il nostro amico ragazzi Dovrà praticamente Avvicinarsi al veicolo Premere una volta Il tasto triangolo Quando il suo personaggio Andrà a mettere La mano sulla maniglia Della porta Il nostro amico Tiene premuto Il tasto triangolo Del joystick Nel momento stesso In cui Il personaggio Del nostro amico Va a mettere La mano sulla maniglia Della portiera Noi ragazzi Noi ragazzi Noi ragazzi con il tasto triangolo Usciamo dal veicolo Quindi il vostro amico Si avvicina Alla macchina Per ora ragazzi Non lo state vedendo Però ve lo dico Quindi come vedete Il nostro amico Si avvicina Alla macchina Premere una volta Il tasto triangolo Il suo personaggio Si avvicina al veicolo Quando il suo personaggio Andrà a mettere La mano sulla maniglia Noi usciamo dal veicolo Con il tasto triangolo Mentre il nostro amico Lo tiene premuto Quindi come vedete Io entro nel mio veicolo Il mio amico Preme il triangolo Lo tiene premuto Nel momento in cui Il suo personaggio Va a mettere la mano Sulla maniglia Io esco dal veicolo E il mio amico Continua a tenere premuto Il tasto triangolo Finché non si troverà Al posto di guida Come vedete ragazzi A noi è uscito subito Al primo tentativo Perché ormai sappiamo bene Come fare questo procedimento Se non vi capita Il primo colpo Non vi preoccupate ragazzi Perché è tutto normale Basta soltanto Continuare a fare pratica A questo punto quindi Quando il vostro amico Sarà al posto Del guidatore E quindi avrà in mano La nostra retro custom Quindi potrà guidare Nella nostra base operativa Semplicemente ragazzi Come avete visto Il nostro amico Va a parcheggiare Praticamente questa LG retro custom In questi due corrimano Che vedete in vetro Dovrà praticamente Parcheggiare la macchina Ragazzi in modo Che possa permettere Il teletrasporto Come vedete qui Il teletrasporto Ragazzi funziona Perfettamente A questo punto quindi Dovremo uscire Praticamente dalla nostra Base operativa Perché ragazzi Dovremo andare A richiedere il veicolo Che ci servirà Per appunto Andare a duplicare Io qui sto controllando Se dalla distanza Del cerchio giallo Per uscire dalla base operativa Ragazzi il teletrasporto Funziona E come vedete Funziona a meraviglia Come ho già detto quindi A questo punto Uscite dalla base operativa E dovrete richiedere Un veicolo Che in questo caso Andrà perso Nel mio caso quindi Andrò a chiamare Una LG RH8 O comunque sia Un faggio Va benissimo Ugualmente Quando quindi Avremo chiamato Il nostro veicolo Vi faccio anche ragazzi Vedere la targa In modo da Farvi vedere Che dopo cambierà E che quindi La targa di questo faggio Passerà Sulla LG Retro Custom Come vedete Finisce con 640 Quindi ricordatevi ragazzi 640 La targa del faggio Ora quindi Come già detto Rientriamo Nella nostra base operativa Quando quindi Saremo rientrati Nella nostra base operativa A questo punto ragazzi Ci basterà soltanto Fare l'ultimo passaggio Per duplicare Vi recate quindi Al cerchio giallo Come vedete qui Per uscire dalla base operativa Guardate verso Il veicolo con la visuale E premete il tasto triangolo E il tasto X Allo stesso tempo Se avete fatto il glitch Correttamente Prima che ci sarà La schermata Che il gioco vi porta Fuori dalla base operativa Sarete all'interno Del veicolo per un attimo E dopo appunto Ci sarà La schermata Di uscita dalla base operativa Se quindi ci sarà Questa schermata Allora il veicolo Sarà stato duplicato Perfettamente Come vedete ragazzi Eccovi La targa Insomma Della LG Retro Custom 640 Il che significa Che quest'auto Appunto ha preso La targa del faggio Come vedete Quindi finiva con 640 La targa del faggio Ragazzi finiva con 640 Se avete notato Il video A questo punto La duplicazione Sarà perfettamente Riuscita E ora ci basterà Ragazzi soltanto Praticamente andare A salvare il veicolo Per salvare il veicolo Quindi semplicemente Andate a chiamare Il vostro centro operativo mobile Quando quindi Il vostro centro operativo mobile Sarà stato richiesto Semplicemente ragazzi Allora dovete salire Al suo interno Quindi premendo la freccia a destra E confermando Che il deposito veicolo personale È pieno È consigliato Come ripeto Se nel deposito veicolo personale Ragazzi ci sarà Una LG RH8 A questo punto ragazzi Salvato il veicolo Il veicolo insomma Resterà in mano a noi Quindi potremo decidere Se andare a venderlo O comunque sia Se tenerlo E continuare a duplicare Ovviamente vi consiglio Anche di uscire E rientrare Alcune volte Dal centro operativo Perché molte volte Uscendo una sola volta Il veicolo non viene salvato Quindi portate appunto Il veicolo Nel vostro centro operativo mobile Uscite e rientrate Un paio di volte Per appunto salvare Correttamente il veicolo A questo punto ragazzi Qui io Sto andando a salvare La LG Retro Custom In un altro Insomma garage In modo da poter Avere già la LG RH8 Pronta nel centro operativo E niente A questo punto ragazzi Ovviamente vi vado A far rivedere La duplicazione Vi faccio anche vedere Data e ora Mi sa O adesso in questo momento La starete vedendo più tardi Comunque La data ragazzi E ora è sempre quella Niente Adesso appunto Se vorremmo andare a duplicare Ci basterà ragazzi Ripartire dal glitch Però dalla seconda parte Quindi la prima parte Quella per il bug L'avremo già eseguita E ora semplicemente ragazzi Ci servirà Soltanto andare a duplicare Quindi partendo dalla seconda parte Per ripartire quindi Dalla seconda parte Semplicemente ci richiamo Al veicolo che vogliamo duplicare Il nostro amico Entra nel veicolo con noi Il suo personaggio Va a mettere la mano sulla maniglia Noi usciamo dal veicolo E il nostro amico Continua a tenere premuto Il tasto triangolo Quindi ci avviciniamo al veicolo Il nostro amico Preme triangolo una volta Si avvicina al veicolo Quando il suo personaggio Andrà a mettere la mano Sulla maniglia Noi usciamo dal veicolo E il vostro amico ragazzi Continua a tenere premuto Il tasto triangolo Finché non si troverà Al posto di guida E quindi potrà guidare All'interno della nostra base operativa Basta ragazzi Fare pratica Un due tre volte E sicuramente poi sia voi Che il vostro amico Riuscirete a capire Come funziona Questo passaggio Fidatevi ragazzi Che dopo un po' Che lo conoscerete Sarà veramente molto semplice Seguire il glitch Come anche insomma Far guidare il veicolo Al vostro amico Quando quindi il vostro amico Potrà guidare Semplicemente vi va A parcheggiare La LG retro In questi due corrimano In vetro Quindi ragazzi I soliti corrimano Per assicurare Che ci possa essere Il teletrasporto A questo punto quindi Quando ci saremo confermati Che ci sarà il teletrasporto Proviamo il teletrasporto Dalla distanza Del cerchio giallo E a questo punto ragazzi Ci basterà soltanto Duplicare Quindi quando Appunto ci saremo Assicurati che il teletrasporto Dal cerchio giallo Della base operativa Funziona Allora dovremo di nuovo Uscire dalla base operativa E andare ragazzi A chiamare un veicolo Io in questo caso Ho parcheggiato appunto La LG RH8 fuori Come avete visto Quindi andrò soltanto Ad eseguire lo step Del triangolo EX Allo stesso momento Quindi avendo il veicolo fuori Che poi appunto Andrà rimpiazzato Posizionatevi su Esci dalla base operativa Quindi appunto Al cerchio giallo E schiacciate X e triangolo Allo stesso tempo Se avete quindi fatto Il passaggio correttamente Per un millisecondo Sarete all'interno del veicolo E poi il gioco Vi porterà fuori Dalla base operativa Sponerete quindi Con il veicolo Quindi in questo caso La LG Retro Custom E come potete vedere ragazzi La LG Retro Ha preso la targa Della RH8 Quindi praticamente Il veicolo fuori ragazzi Servirà appunto A duplicare Ovviamente Se abbiamo targa personalizzate Consiglio di duplicare In questo modo E poi di applicare Targa personalizzate Ragazzi per non perdere Il blocco Io in questo caso Vado sempre a utilizzare La mia LG Retrofidata Senza targa In modo da insomma Stare tranquillo Quindi niente Fate tutto quanto La procedura X triangolo All'ultimo Per uscire dalla base operativa Sponerete con il veicolo E a questo punto ragazzi Se avete un veicolo fuori Il veicolo appunto Si sarà duplicato A questo punto Portate l'auto Nel centro operativo mobile E il gioco ragazzi È stato completato perfettamente Quindi se vogliamo continuare Ovviamente adesso A duplicare Ci basterà quindi Di seguire tutto quanto Il gioco da capo Ovviamente ripartendo Appunto sempre Dalla seconda parte Quindi come appunto Vi farò vedere più tardi Nel gameplay Vi farò vedere appunto Sempre che per duplicare Bisognerà ripartire Dalla seconda parte Quindi dallo step Che il vostro amico Si avvicina al veicolo Eccetera eccetera Ricordatevi ragazzi Di non esagerare Con le vendite In quanto potreste prendere Il blocco del limite giornaliero E mi raccomando ragazzi Cercate sempre di vendere Con targa personalizzate Altrimenti insomma Ne evade la vostra O meglio Il vostro livello Del limite giornaliero appunto E quindi niente ragazzi Questo video finisce qua Non ho altro da dire E niente Mi raccomando ragazzi Fatevi i vostri sporchi E i vostri soldi Con i miei glitch Come anche insomma Con questo nuovo money glitch Che vi ho postato Detto questo Nulla Qua da Krix È tutto Che dire Io spero abbiate apprezzato Vi invito ragazzi A lasciare un like Vi ricordo nella descrizione Il link del mio canale E gruppo Telegram Se vi seguono anche Account moddati Il link è sempre nella descrizione Seguitemi mi raccomando Su Facebook Instagram e Twitter Il link saranno nella descrizione E mi raccomando ragazzi Lasciate più like possibili A questo video Per l'arrivo Di nuovi money glitch Qua appunto sul mio canale Io vi saluto Vi ringrazio Non vi rubo altro tempo Vi lascio alle vostre cose Noi ci becchiamo Prossimo video Una prossima live Buongiorno 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 Buongiorno